L'audio lo sentite dalle cuffie, lo sentite l'audio, non so da dove lo sentite se no Corretto? Voi lo sentite dalle cuffie Ok, adesso lo sentite invece bene, giusto? Eh sì, adesso lo sentite bene Ok, vediamo un po' Dai, voi lo sentite dalle cuffie che... Oie, 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 oie Ok, adesso come si sente? Sentite bene adesso? Solo che veramente, se vede lagga, cazzo, lagga proprio Dai, per un corpo, Dio santo È fluido, è perfetto, si vede? Ok, com'è l'audio? Si sente pure bene l'audio? Ma lo cazzo tiro Dov'ai? GG, victory! Ok, oh, player migliore pure, eh? Player migliore pure Ok, com'era? Va bene là... Oh, l'uovo! Come funziona l'uovo? Vedete come funziona l'uovo? L'uovo come funziona? Eh, le bette non posso oggi, domani sì Che del'uovo? Allora, destra, sinistra, destra, sinistra, su e giù Destra, destra Sinistra, sinistra Destra, su, giù Destra, destra, sinistra, su, giù Graffia No ragazzi, sto a scherzare In realtà Quello lo fa Come si chiama? Grax Su TikTok Fa tipo le robe su TikTok Destra, sinistra, destra, la combinazione perfetta Ma va, terapia del culo, non esiste L'unico modo per Per far scappare qualche madonnaccia fuori da qua È avere c'è il buscio del culo grosso Se c'è il buscio del culo grosso Allora pure 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 Non ti piace sta postazione Cactus Ma è bellissima Ma come fai a dire che non ti piace? Cazzo A parte il buco lì Che è quello E purtroppo la porta la devo buttare via La devo bruciare Non c'ho soldi per ripararlo Cazzo Il buco Come lo levo il buco lì? Quello sapete che buco era? Sapete? Eh Vabbè ma era logico che non esistevano le buone Sapete com'era quel buco lì? Sapete perché esiste? Sto buco qua Quando stavo così Qualcuno Non faccio nomi Mi ha preso la testa Vediamo che dolore Me l'ha andostata dentro la porta Me l'ha andostata Dai Lasciamo perdere Che è meglio Vaffanculo No Don Il buco di don Sta qua Don Sebastiano Gli ha dato qua Eccolo là Quello Non so se si vede Vabbè Padrina Dai che figo Vi piace una postazione nuova? Dai che bella Ma che cazzo dite? Ma non è brutta È brutta dite? Per favore Ma perché sei lì? Perché? Perché mi hanno sfrattato ragazzi Mi hanno sfrattato E purtroppo Sai com'è? Ho dovuto Eh Mi sono trasferito Adesso sto in Cambogia Ti piace? Mi sono trasferito Sono andato in Cambogia Sono andato all'estero Ragazzi E niente Adesso Faccio le live Dal Burundi Dal Burundi Però vediamo Se non mi trovo bene Vado sulle favelas Perché vediamo Magari le favelas Magari è meglio Ma vogliamo Come hai fatto a fare 8000 coppie In due settimane Nemmeno Il potere Di Matteo HX No 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 Scherzo Sono shoppato I pass E Mi sa pure 1000 euro Di Lascio a perdere Tutti i sordi Che ho guadagnato Mese scorso Tutti quanti qua L'ho buttati Vabbè ragazzi Che vedevo di Non giovizi Non c'ho sgravi Non c'ho niente L'unica cosa Che mi piace fa è Magna Dormi E giocare Le uniche cose Che mi piace fa Poi vabbè Pure fare l'amore Però quello Vabbè 100% Oh questo qua è buono? È buono Sto pacchetto? Fregna se è buona Allora Gratuita Io Fai bene A cambiare la postazione Falla all'aperto Volete che la faccia all'aperto? Apri l'ove Come se aprono le uova? Io non so come se aprono le uova Non lo so Non c'ho idea Ma non so nemmeno Che sono l'ove Ma che cazzo Non so come sono l'ove Che d'è qua sotto qua? Che d'è qua? Vinci le battaglie Per guadagnare Premi stars Ognuno di essi Ha la probabilità Di migliorare la rarità Ma va a fanculo Ma chi cazzo Te crede qua? Allora Non spendere gemme Per le monete Non va bene Dopo Sembra che c'ho 60 anni Quindi Secondo voi Senza peli Qua sulle braccia Chi è? Grazie Matti Strong Come stai? Un bacio enorme Grazie Grazie mille Grazie Secondo voi Con i peli sulle braccia Senza peli sulle braccia Secondo voi E' più bello E se sono più giovane Sempro più giovane Senza peli sulle braccia No In realtà ragazzi L'età sta andando avanti Per tutti Pure per me Purtroppo E Me levo i guantini Vado a prendere la pomada Arrivo Ce la mettiamo insieme C'ho lupisello Troppo grosso Vedi? Non ci passa Eh Occhio le palle Oh però guarda un po' Guarda un po' Su tavolo Altezza coglioni Sembra fatto apposta È una roba incredibile È una roba incredibile ragazzi Veramente È una roba incredibile Altezza palle Ah che bello Cioè passo paro paro Altezza Altezza coglioni Incredibile Allora se 589 589 Ttv Grazie mille Bellissimo 20 mesi di resabba Come stai? Grande Ho appena fatto La circoncisione Cosa mi consigli Per non farmi Venire le erezioni Aia Allora Ti si è fatto La circoncisione E non devi farti Venire le erezioni? Te consiglio Non lo so Guarda Cugorla One Cup Magari te piace Magari Anzi No io Io veramente Ci sono stati pochi video Dove veramente Non Dove me veniva Da vomita Veramente Pochi video Dove proprio Cioè impossibile Impossibile Farsi venire un'erezione Con quel video Impossibile Cugorla One Cup Secondo me Tipo È la cosa migliore È la cosa migliore Poi certo Se stai qua Guarda la live mia Un'erezione Te può venire tranquillamente Quindi Te consiglio Di uscire No no Solo per brustarsa Ragazzi Solo per brustarsa Ti piace Cugorla One Cup Allora Non riesco a stare Con la mia ragazza Che mi parte a mille Non ho capito È difficile Non riesco a stare Con la mia ragazza Che te parte a mille Ah Eh Questo è un problema Sei un grande Ma te Mi ricordo ancora La tua badante La tua badante In Romania Eh la mia badante La madonna Come se fossi vecchio Porca puttana De 60 anni No 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 Non era badante Ma era La guida turistica Rumena Guida turistica Rumena Ricordo C'ho tanti bei ricordi Di quella guida turistica Voglia Mamma mia Ah Cristina Madonna Ma che stai di rude E allora fai la sub No costa 3 euro Che te frega Ma sei circongiso Io no Io non sono circongiso L'uomo senza pelo È come un cielo Senza stelle Dovevi vedere Quanto pelo C'avevo prima io Allora A voglia Ragazzi Io non uscivo più Con una ragazza Da Un anno No un anno no Però L'altro giorno Mi sono levato i peli Porca troia C'avevo C'avevo la foresta C'avevo la foresta Ho chiesto a mio padre Se mi dava una mano Levarmi i peli Dietro la schiena No Il rasoio Si è inceppato Si è inceppato Lo rasoio Si è rotto Non ce l'ha fatta Non ce l'ha fatta Porello Non ce l'ha fatta No sotto è sempre ordinato Sotto è sempre ordinato Sotto Però sopra Ero Ero Proprio Tanti Ma che me sono fatta La guida turistica A te pare Ti hanno cacciato De casa Si a voglia Mi hanno cacciato Sto in gaboccio Te l'ho detto Ti piace? A voglia? No La cosa che mi fa più ridere Ragazzi è Sto tavolino Sto tavolino Sto tavolino Ragazzi è quello che mi ha fatto più ridere E più di tutti Sapete perché mi fa ridere? Perché è veramente così È così È così ragazzi È tipo Ci entrano solo le gambe Però che me frega Alla fine deve Deve starci solamente il tablet Allora Qua mettiamoci la pomata La pomata Anti Anti età Io non so quanta ce ne va Basta Non ti do le vasella Non ti do le vasella Ha sembrato Esquiva la barba Oh no Dio Oh no Com'è? Mi piace? Ah che bello Mamma mia Ragazzi Mamma mia Sparmasse sta roba Mi piace Così 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 Dio santo Che cazzo Vi ricordate Com'era Com'erano gli esercizi Di quell'un là Che topperi Ingiovani la pelle Chi è che se lo Questa qua Guarda È una chicca Che pochi lo sanno Oddio Poi dovevo fare Di poco ci Porco Porco Mi devo avvicinare la gamma Come' ma' Come' 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 Ok Com'è? Sembra l'ovo di Brewster Sembra l'ovo da Brewster Per fare tipo così Destra e sinistra su e giù graffia Vai graffiammi tutto Allora Poi Ma le pomade non sono finite qui Eh no Perché abbiamo pure La pomada per le borse dell'occhio Vai Pumatina Grazie a tutti Ma il problema ragazzi è qui Qui Questa zona Vedi qua? Vedi qua? Qua c'ho Qua c'ho questo qui Che è grasso che deve essere riassorbito Purtroppo C'ho Il problema è lì C'ho Perché di qua Di qua va bene Ma di qua non va bene È un problema Ok A parte questo Ok Questa qua è la mia skin routine La routine Diciamo che faccio tutti i giorni Tutti i giorni Secondo me non servono a niente queste cose Sono scam Boh Non lo so Tutti i giorni Se uno le fa tutti i giorni Magari Riesce a A fare una cosa Devo andare a lavare le mani ragazzi Perché è un casino Però la belle più morbida Me la fa ragazzi Alla fine Me la idrata Un minimo Ecco allora Qua c'ho il problema Che c'ho la tastiera Vedi qua? Quando passo qua Vedi? Non ci va perché C'ho Ma do cazzo l'ho trovata Sta scrivania A paro de palle Guarda Guarda Non sto scherzando Guarda Guarda un po' Appari Proprio C'ho un coglione Che va proprio Precisi Ecco Ecco Il diavolo Ecco arrivo 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 eh se sente? ok spero che si sente ragazzi spero che si sente si sente? che karma che roba c'è stata una karma micidiale c'è stata veramente c'è stata una karma proprio sento proprio senti tutto è passata una macchina adesso una macchina una una macchina ma che karma è il mio profumo di montagna ok allora questo lo lascio qua ragazzi questo lo lascio qua sopra è sempre sotto lineatura anche se si è abbonato grazie per sempre come stai? ci va bello? allora comunque a parte tutto ragazzi andiamo a giocare che è meglio? perché qua voglio iniziare a giocare seriamente se no che cazzo sto a fare qua? dai ho speso tutti questi soldi per cercare di fare tutta sta postazione per poi cioè che cazzo faccio dopo? non stremmo? eh quindi allora secondo me qua la gamma ma vediamo un attimo come metterla la metto così la gamma che dite? vi piace? ma che è questo tu? la metto così tipo perché si vede così? ah perché devo premere ok ok eccoci almeno se vede bene no? non vuoi se lo trovo allora sto a cercare sto a cercare una cosa che non mi faccia ma se capisce che è il logo di OnlyFans è questo? ditemi un po' se si capisce spero di no si capisce che è il logo di OnlyFans è questo qui? no non si capisce allora via niente ehm seguimi su Twitch 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 MatteoHS Instagram MatteoHS off pochi altro YouTube YouTube Teo ok un po' una porcata però dovrebbe funzionare no? in teoria ma io onestamente ragazzi OnlyFans ancora non ci ho pensato ad aprirmelo però a breve magari seguimi su Twitch ah TikTok pure c'ho no YouTube lo levo perché tanto non se caga nessuno TikTok TikTok MatteoHS trattino basso live o MatteoHS live tutto MatteoHS live tutto attaccato perfetto ci siamo ci siamo se vede se sente preciso allora l'unica roba cosa farei qua io farei al contrario tipo metterei questo qui sopra scusate il momento ragazzi che sto a sistemare le ultime piccolezze qua ma queste sono tutte puttanate che potevo fare pure off stream però dai alla fine ci sto ok meglio così a livello grafico secondo me è meglio così avvio la live pure su TikTok per i bambini per i bambini da merda che ci stanno qua ok allora ah però aspetta non funziona il microfono qua oddio oddio qua come faccio adesso e qua non funziona prova prova ok ho messo lì prova ah no si sente ok si sente incredibile si sente pure su TikTok l'audio perfetto vai live ciao bambini dai stasera ci facciamo bannare da TikTok dai tornato grande tornato come stai grande eh a breve si a breve si mi aprirò quel sito lì andrò su quel sito perché sai com'è quando quando arrivi proprio che tocchi il fondo in qualche modo devi fare no eh in qualche modo devi fare in qualche modo devi fare quando tocchi il fondo eh purtroppo devi per forza fare in qualche modo allora qua momento solo che faccio un video qua su TikTok tocca e nel bel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai mo chi cazzo te pronto ci dè ma vattene a piander culo te mamma da e nel bel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai mo chi cazzo non si sente peccato come diceva mio nonno meglio tardi che mai in tempi di guerra ogni buco allora come diceva mio nonno meglio tardi che mai e allora perché non me ne andate a fanculo come diceva mio nonno meglio tardi che mai e allora perché non me ne andate a fanculo allora via forno ok via è stato rilevato che la chat live non è apparsa sul tuo schermo negli ultimi provo utilizzare un dispositivo per visualizzare i commenti e le prestazioni che è qua allora in questo modo poi quando la finestra chat live non appare durante una live di gioco che è qua perché la finestra non appare durante ma che vuol dire ma appare appare ma che vuole qua questa ma che cazzo vuole ma che è qua allora ci siamo brostars ci siamo bentornati benvenuti bambini oggi si bestemmia parecchio si bestemmia questa è una piattaforma lercia secondo me quindi io ragazzi non vi consiglio di spercare il vostro tempo il vostro denaro in questa piattaforma piuttosto staccate da questa live da questa piattaforma posate questo cazzo di cellulare che ci avete sulle mani e fatevi una bella sega tutti quanti tutti quanti tutti da prima all'ultimo ok oppure utilizzate il vostro tempo nella maniera migliore venendo su twitch ovvio che si quindi questa è una piattaforma del cazzo io ragazzi li commenti su tiktok non è che non li leggo io li leggo i commenti su tiktok ma ogni volta che leggo i commenti su tiktok dite sempre le stesse buttanate quindi per tale motivo ragazzi io vi consiglio di andare tutti a fare in culo dal primo all'ultimo a me non me ne frega un cazzo io che posso sta qua che posso sta qua a stare tutto tranquillo precisino perfetto mo se voglio di porco dio non posso dirlo perchè sto in live su tiktok ma porca la madonna ma facetevi un paio di cazzi vostri vaffanculo sti moralisti del merda tutti i moralisti del cazzo su sta piattaforma del cazzo qua allora pronti partenza let's go vai allora ciao water artwell white io andiamo chi mi ha dato l'elastico per i capelli another day addio sonissimo madonna e mazzo di porca eva ogni tanto vaffanculo assorata ma tu guarda la sta madonnaccia qua dov'hai 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 no 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 ma come cazzo ho fatto a scattare quella addio secondo me attenda 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 è morto No, non è morto Ok, GG, vai Uno è morto là Occhio, occhio, occhio Sì, ma fate qualcosa Fate qualcosa nella vostra cazzo di vita di merda Non è Ma dai Ma quello là è STR il primo Ma fa cagar cazzo Ma è un botta a pedali Ma chi cazzo gli ha dato la patente a questo Grazie Ciao Ryder, tutto bene Te invece come stai? Grazie mille anche a non P22, quattro mesi di resab Grazie Ma vaffanculo No, non va bene Non va bene, cazzo Periodaccio come la figaccia del mamma Guarda quella bur... Quella buttana Eva No, ne occhia ticca, occhia ticca, occhia ticca, occhia ticca No, 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 no Eh no Occhio Che c'è qua? No, occhio, occhio Oh, dove vai? Dio, Dio, Dio di Dio No, come cazzo ho fatto a segnare? No, 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 no Dov'hai? Eh? Sì ma questi fanno troppi danni raga Ma non c'è se capisce niente Ma c'è se capisce niente Dai, ma che è sta roba? Ma c'è capisco un cazzo qua Ehi, dai, io, tira Goal, GG No, 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 no Tra 3, 2, 1 No, 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 no C'è il buco aperto Lì, occhio Ma se può fare pure la modalità senza? Ma se può fare pure la modalità senza? Vito rifiutato Andiamo bene Vai Allora, comunque Modalità Oddio, che è qua? Aspetta Sopravvivenza Sopravvivenza Qua, che è? Questo non prevede la presenza E perché le squadre? Non ho capito Allora, presenza delle squadre Ehm Allora, vediamo un po' Qua, via Ricercati Allora, quella modalità è buona qua Da fa' Allora, grazie mille Luder Pro Ciao, bello 08 Grazie mille 4 mesi di RS Lab Allora, fai provare Sopravvivenza Fai più coppia Io Grazie M8 Mgamerelle No, 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 no Qua bisogna vincere ragazzi Qua bisogna vincere Non mi frega di niente Occhio 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 Porca puttana Guarda Mi do a caffa Veramente Mi do a caffa La cengana qua Ma che stiamo giocando Cengana Non giocherò mai Nella vita Ma dove vai Che schifo Ma dai Ma sto giocare con i bot Che quelli Mango No, come se esce No, non ci voglio giocare Con questi Porca Eva Chi è? Grazie Grazie No, non gioco oggi Con la chat Ragazzi Non è che non gioco più Vabbè Non rispondo più Ai commenti del genere Dai Ciao per sempre Che Si Namu 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 Yo dai Prendiamo a sta palla Yo Bastard DJ Vai Grande per sempre Hs Occhio 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 Victory Vai Primo Dai Vedi come si vengono le partite Così si vengono le partite Dio santo Dio Ciao Maria del Prete Yo 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 Namo Gotto di sto game GG Allora Yo Namo Nerds Se ci vede consigli Ragazzi Ragazzi Detemi pure Se ci vede consigli Io Occhio 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 Allora giochiamo da astuzia Non da soli Giochiamo da astuzia Non da soli La palla Vai Ehi Li sono presi dietro Li sono presi Li ho presi tutti dietro Li ho presi dietro Li ho presi dietro Li ho presi dietro Li ho presi Ok Io Andamo Ehi In bocca Proprio come mi piace a me GG Guarda là Che palugolla Che sto fatto Una meraviglia Wow Yo Vai Gobazzi Yo Yo Vai che si rigioca Yo Jo No Non ho visto storie Non ho visto niente Non ho visto niente Allora Yo Vai Let's go man Si si Un nuovo studio E' per giocare A brustazza Per forza qua Se non si vede Do vai Goal Eh qua porca Troia Te faccio Ehi Occhio 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 E Occhio Occhio La palla La palla La palla Tu mori GG Victory Yo Com'è andata Una meraviglia Si sto giocando Portabletta Com'è Se vede bene Ragazzi Se vede bene Se vede bene E' di vostro gradimento Com'è Fatemi sapere Fatemi sapere Yo 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 Vai che si vince Grazie Valentina Del follo Allora piano Ok qua è un casino Questo dov'è Questo dov'è Oh E io Passami la palla Porco E dai E dai E su Guarda che se perdevo Vestemmiamo Quanto una madonna Guarda Vestemmiamo Da qua fino A centane Ti ha ritirato Certe vestemmi Dio Ok Oh i compagni miei Non stanno Morti tutti Perché Dio Qua ce l'ho io Vai che pino turbo Vai yo Andiamo col turbo Si col turbo Vaffanculo vado No attacca Occhio la palla Grande nerd Grande nerd Yo let's go Let's go Yo Dai però Nerd Dove andare a prendere La palla Cazzo E che giochiamo E Dio 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 Santo Dio Dio Panoroll E la recupera E la recupera Proprio Come Una meraviglia Una pasqua La recupero La recupero Come una pasqua Vai Ma te Ma quanto sei alto So basso Perché So basso E c'ho Lo cazzo piccolo Che mira Nell'angolino Eh Hai visto Che bella roba Dovai Dovai Goal L'importante è segnare Poi il resto Che me ne frega Io gli passo Da qua Gli passo Hai visto che bella robetta Che bella partita Vai vai Cinque partite vinte di fila Let's go man Let's go No ma ragazzi Io dico così Perché è vero Cioè Io Ragazzi Non sono dotato Purtroppo Ho parole Poco belle Per Brollo Ultimamente E vabbè Dai Sti cazzi A me che me ne frega A me mi piace Brollo Che vedevo di A me mi piace Brollo GG GG Occhio Occhio Da sinistra No da destra Vai a destra Bravo Goal NERZ Grande NERZ Ragazzo Occhio Occhio Bravissimo Occhio 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 La palla Occhio La palla Eh Cristo Dio Ma dobbiamo Busciare insieme Qua No Qua Qua Se perde GG Yo let's go Eh occhio Occhio Let's go Eh occhio occhio Dio santo Dio Ma che è Dove sta la palla Porca bestia Come è la palla Dio santo GG GG Goal Vai Nerse Grazie Stefano 14 mesi di resa Grazie come stai Grande Grazie mille Let's go Vai Yo Vai vai che se vince Sei vittorie di fila Vai Yo Grazie Stefano Va Grazie Stefano Grazie Stefano Yo Andiamo Andiamo Maddio santo Ce l'ho provato A tirarla A lontano Ma non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Non mi dico che perdo Questa roba Perché guarda Me cazzo Me cazzo Proprio di brutto Me cazzo Noni 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 Occhio 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 Let's go Let's go Goldy nerds Grandy nerds Ma porca puttana Ma dove cazzo L'ho tirata la palla Io Non ci credo Mai nella vita Ho sbagliato Occhio Ciocchio Ciocchio Cio Niente L'ho Niente Bisogna sinnia Bisogna sinnia Bisogna sinnia Bisogna sinnia Let's go Vai dritto poi dritto in porta Vai cazzo No madonna Braille il migliore pure 8-7 vittorie di fila Ragazzi si fanno sentire Che dite? Se sentono Grazie Grazie Leggi su tiktok Perché devo leggere su tiktok Ci stanno scritte le buttanate su tiktok Sta la gente che non si sa che cazzo scrive Se ci stanno scritti i commenti positivi Se volete essere letti ragazzi Venite su twitch Che vedevo di Su twitch le cazzate non vengono scritte Perché li banno tutti Non è porca puttana che sfiga Sto a migliorare grazie Mi fa piacere che sto a migliorare Eh se migliora per forza Sennò che facciamo qua Eh questo Grattamme Dio Non è non è non è non è non è non è Ho sbagliato io Ho sbagliato tutto Ok 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 Vai 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 Per tutto una gioia Compagni De classe C'è di classe Vai lo preso Goal 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 Una porca puttana Eh ci ho provato a fare Tipo la giocata di tirare in porta Tra le due persone ma non ce l'ho fatta proprio Ok dai 30 secondi dobbiamo resistere un po' Dobbiamo resistere Dobbiamo resistere C'è 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 basta che la tira Basta che la tira e forse se può vincere Dai GG Victory Da quanto gioco? Una settimana precisa ragazzi Gioco da una settimana precisa ragazzi Faccio schifo lo so scusate Gioco da una settimana precisa Allora Fai schifo in Jot su Tiktok Fai schifo Allora Non ho mai visto una persona più schifosa di te Veramente GG Victory Vai Let's go Due Oh la maronna Dai No vittoria di fila Dai Let's go man Yo Vai vai Sei migliorato tantissimo Mi fa piacere che sono migliorato tantissimo Grazie Prendi fang Fidati è fortissimo Eh voglio dire a su questo qua Fino a che livello è il massimo 45 50 Non lo so Personaggio massimo Io perdo sempre ma te Eh perdi perché fai schifo Che ti devi dire No sto scherzando Sto scherzando Nadia sto scherzando Pure io faccio cacare Non è che solo tu La voglia Pure io faccio cacare Non sei l'unica E vanno a parà Porca troia Oh questa si perde eh Ma scusa ma quanti cloni tira fuori quello Uno Ma sto scherzando Sto scherzando Nadia Tranquilla Dai andrà via male Tutti facciamo schifo Occhio 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 La palla Ok Madonna che flank Che io ho fatto da dietro Ola marronna Vai Embè Embè Che dite raga Stai manda bene? Grazie Grazie mille Michael Con la 112 15 mesi Posso dire che su ttok c'è una chat di merda? Fate tutti schifo su ttok Grazie mille Giulio Grazie mille Aspetta dopo ti saluto eh Un attimo che Embè Eeeh! GG! No, ragazzo! Dio! Vabbè, è una partita persa, colpa mia pure! Vabbè, dai, ci sta, ci sta, ci sta, poco capità, poco capità, dai! Oh! Raro! Che trovo qua dentro? Che trovo qua? Che si può trovare? E dai, dammelo mitico! Che schifo! Oh! No, schifo no, perché cinquanta cose... Allora, com'è ragazzi? Sinistra, destra, sinistra, su, giù, destra, sinistra! Sì, sì, babbo, sì! Ma bisogna iniziare a bannare su TikTok, è tutta merda qua che scrivono! Guarda là, che schifo! Guarda là! C'è sta uno che si chiama con la n-word su TikTok! Vengono per scrivere le puttanate, bisognerebbe proprio bannarli proprio nella vita! Fare in modo che queste merdacce non esistano proprio più sul web! Bisogna fare in qualche modo, bisogna fare! Allora, comunque... Allora, destra, sinistra... Destra, sinistra... Allora, su, su, giù! Allora, su, su, giù! Poi... Poi... Sinistra, sinistra... Giù! Giù di nuovo! Poi! Sinistra, sinistra, giù, giù! Che ti ha piaciuto? Che è? Che è? Ma la terapia under culo! Che schifo! Oh! Oh! Minigo! Ma le skinne de merda? Ma che ce faccio? Oh! 102! Buone! 102! Non male! 102! Vediamo un po'... Allora, che è qua? Che c'abbiamo qua? Ok, preciso! Oi! It's ok, man! 8000 coppie e due leggendari? E' bono? O faccio schifo? Faccio schifo, ragazzi, giocare? Non lo so, eh! Io non so se so forte, se... Cioè, se so buono! Non lo so, ragazzi! Io ci provo a giocare, ma... Non è che so bravo io! Cioè, mi piace tanto, mi piace Prostazza! Perché comunque ci gioco, cazzo, ci gioco, sì! Certo, in confronto alle persone che ci hanno, porca puttana, ci hanno 40.000 vittorie in 3.3, vittorie in singolo, ce ne hanno un botto, io faccio schifo! Poi non so com'è il rapporto! E' bono? E' bono, ragazzi? Non so se è bono! Ciao Sandanna! Tutto a posto, te? Io 16k due leggendari! Ah! Io non lo so, ragazzi! Io pure ho shoppato un po', eh! Non so se è bono! Vabbè! Se può sempre migliorare, comunque! Allora! Sei simpatico, però! Grazie! Ehm... Grazie, avanti in altro stronzo! Grazie! Comunque! Ah! Ci abbiamo la maestria qua! Che è? What the fuck? What the fuck? Che è? 300 pietre? E' una maronna! Buone cazzo! 300 pietre! Allora! Ehm... Ci abbiamo... Ah! Per due lo sblocco Carla! Lo sblocco Carla per due pietre! Dai! Ma no! Dai! Teniamoci le due pietre! Dai! Oppure è meglio comprarlo! Che dici? Che dite? E' meglio comprarlo? Come si fa a vedere che... Qual è il brawler che mi manca le maestrie? Da comprare ancora! Cioè io non so quali sono i brawler con le maestrie che mi mancano! Allora! Ci abbiamo qua! Ci abbiamo! Ci abbiamo! Stecca! Oh! Eccola! 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 Allora! Ehi! Vabbè! Ehhh... Sono in live! E' un problema per voi! Ehm... 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 No no non serve Non serve Non serve Allora qual è per Modalità che cosa consigliate ragazzi Per KO Uno da lungo Corvo Tic Fang Corvo ce l'ho E' forte Corvo Tutti mi dicevano che è forte Corvo Allora Fang È fortissimo Fang ce l'ho Fang io Per nome Come si chiama Fang proprio Non ce l'ho Fang Lo devo scaricare però E non ce l'ho Fang ragazzi Io Fang non credo di averlo Non l'ho mai visto No no non ce l'ho Ah però ci abbiamo Ci abbiamo Spike però Spike è forte È forte Spike Meglio Piper dite Corvo è forte È bello forte Corvo Allora Corvo Allora vado con Corvo dai Corvo 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 Dove sta Corvo Qua Corvo ce l'ho pure Corvo Che è qua Equipaggiamento Overdrive non mi serve L'equipaggiamento Che roba ci metto Abilità stellare Dai almeno questa compro Almeno questa compro Che roba prendo Super Tossine O Corvo Al Volto Che metto Corvo Al Volto Corvo Al Volto La prima dicono Alla più forte Grazie Emanuele Grazie Blissi Umbane Grazie Che devo fa' Corvo Al Volto Guarda se mi è stata dire Cazzate me un cazzo Equipaggiamento Gadget Gadget che prendo Che prendo Tra Super Dove prende questo qua Super Tossine No che prendo Tra Ma te leggi cazzo Sto a leggere ragazzi Leggo La seconda Super Tossine Tossine Debilitanti Si è forte Il primo Allora Corvo riceve Uno scudo Dalla tutela Di tre secondi Che riduce Il primo Allora Uno dice primo Uno il secondo Non gioco più un cazzo Non prendo nessuno Di due Dai Andiamo Andiamo Let's go man Vai Grazie Grazie mille Please Umbane Grazie Andiamo Andiamo Vabbè Nel dubbio Chiedo a max Brawl O a Graxa Per due Gemme Graxa Non so Allora Come funziona Questo Ce l'ho la mutazione Qua sopra Non ho visto Dio 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 sandissimo Uy Che è Il coso Lì con Uy 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 Bastardi Bastardo Uy Dio Dio santo Dio santo Ma questo È più difficile Questo È difficile Qua è difficile Però Ancora non ho attivato mai la super Allora vado da destra Do devo andare Allora Non sparare Recupera Devo recuperare Secondo voi Mi sparo Gli sparo Però qua ci sta Questi qua Che è veramente Dio santo Dio Dio santo Dio Che 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 Casino Non ci sto capendo Niente Vi giuro No ma che 3.400 De danno Dio santo Ma che Gli devo faccio La palla Quella lì Che gli devo Fa Ma che Gli devo Fa Quello Dai Uno contro Uno Vai Sara Io Vediamo un po' Saretta che fa Io No Ah Vabbè dai Ho sbagliato Vabbè Dai Ce sta Ce sta Può capitare Vabbè Eccola là Con i pagliacci Attenzione Vabbè Vladimir Madonna De ne russia Madonna Questo qua Che lancia I palloncini No No Cazzo Che sfiga Vabbè Dai Ce può Sta Ce può Sta Ognuno In ponte Vabbè Ce può Sta Ce può Sta Dai Può Capitare Può Capitare Ragazzi Ma dovete Di come Funziona Questo Ma che Livello Ce l'ho Questo qua Ce l'ho A nove Strano Che non Faccio Danno Con Questo Champion Voi Mille monete Allora Voi Dite che Meglio Il primo Giusto Il gadget Per il Meglio Il primo Meglio Il primo Il secondo Io direi Non lo so Primo Secondo E io Non lo so Ok Yo Let's go Eh lo so Può Capitare Può Capitare Vai 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 Yo GG Vediamo Com'è Con Col gadget Magari Con Il gadget Forte Spara Colpi Incredibili Grazie Face Un Bain Yo Vai Vai Sto Legge Riccardo Dimme Allora Vai Andiamo Sì ma Perché Non funziona Questa Ok Recupero Recupero Eh Questi Non Non Si faranno Mai Vede Più Più GG GG Eh Devo Passare Di qua Passo Di qua Passo Che è Successo Qua Ha usato Lo super Dove Stanno Eh Stanno Lì Dentro L'ho Visto GG Vai Come è andata Sono andato bene Ragazzi Sono andato bene Dai Se sfera Occhio 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 Che bastardi Questi Guardali Questi più sto lontano Peggio è Recupero Recupero Recupera Oh Non riesco Attivare ancora occhio occhio no 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 bastardi niente non ne faccio bastardi uno per uno eh ma non riesco madre ma scusatemi la super che fa la super ma io non so io non riesco a capire come funziona sto champion ragazzi vi giuro allora non state tutti dentro uno a sinistra e uno centrale e uno a destra tutti dietro meglio random 10.000 volte meglio io non l'ho mai usato ragazzi prima volta che uso questo prima volta che uso c'ho 312 coppe c'ho 112 coppe dai può capitare può capitare dai ti dà un po' che è scritto kill you che ti prende e che me prende sono io che sto scarso non è lui io io allora salta e lancia il veleno intorno ah ho capito capito ce l'hai un clan ma che c'ho un clan gettando che c'ho che c'ho voglia di ma che cazzo ne so io che roba dè un clan non so mai come si chiamano lì campioni c'ho un clan secondo te ma grazie martina fracassi grazie mi fa piacere che te che so simbatico guarda 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 che cazzo ci sta qua oi corvo un corvo un corvo a te un corvo ma chi è che mi fa danno permanente qua dai bastardo troppo prevedibile vero e dai non ne piglio nemmeno uno ehi non è no ma è difficile è veramente difficile veramente complicato difficile proprio complicato ok meno uno perfetto occhio 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 GG easy win allora corvo ma corvo è un casino allora non tutti appiccicati ammassati quindi uno a destra uno a sinistra madre oh corvo cazzo quel corvo quel corvo lì un corvo a lui grande vai 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 occhio occhio corvo GG l'audio ma come non sentite l'audio è un problema tuo eh penso qua funziona tutto GG let's go man dai eh hotel senza el' no l'ha cacciato via no l'ha cacciato via purello l'ha cacciato via purello dai l'ha cacciato via vabbè dai andiamo io 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 l'ha cacciato via ma te crea un clan bravo così io non ho fatto niente ragazzi ha fatto tutto lui io non so chi sia hotel senza el' io andiamo hotel senza el' otto io io andiamo con otto andiamo a vedere con otto com'è allora hotel ok uno ui 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 ah questo è quello che hanno già lì corriandoli sì ma che cazzo ma non faccio danno perché 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 non le va danno non va danno ma che cazzo ma io lo colpisco ma non fa danno dio santo ma che è de supporto questo non capisco perché non fa danno cioè fare danno con corvo è veramente non faccio danno ragazzi proprio zero non fa danno non fa danno perché miri sempre non mirare ti porta vantaggio avere un clan cioè che me fa me fa fa più danni me fa fa più danni con un clan allora fang devo prendere vabbè dopo compro fang ok dai compro fang compro fang io compro fang dai lo provo fang io proviamo fang allora dove sta fang 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 io compriamo fang qua c'è carla carla pure io allora vai oh vai è bigu è bigu e che prendo fa tutti scacà grif grom pam stu stu grif pam grom che cazzo prendo stu briga allora tutti allora ci sta chi dice griff chi dice griff stu griff stuf bo io preferisco questo qua questo questo let's go allora poi dove sta fang fang fingte fingte fangte io sta allora fang 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 ma chi è fang io non ho capito chi è loio larie grom gelindo fang eccolo ma chi è ma questo è forte su capo su capo fang si è visto così tanti film del confu non lo so ragazzi io non posso spendere tutti questi sordi ma che fa cioè che roba fa cioè io non so come funziona stu champion madonna shot ui e quanto distante va vabbè ah va distante però più più ma vicino più faccio danno come funziona ragazzi mi fa caga fang eh c'ho piper uso piper dai vai vai c'ho piper uso piper vai o spike posso pure giocare spike boost power o è così oppure niente che ti devo dire allora andiamo andiamo con piper vai andiamo a vedere con piper andiamo a vedere ok Oh my! E quello è un mostro Dai uno contro uno Eccolo Fung Madonna Esatto gioco da poco gioco Che poi faccio cagà Quello lo so Madre Sto Fung Allora Piper Io lo gioco da dietro Piper Ecco Piper deve essere preciso Devo prevedere Prevedere Vabbè Allora Ah più sono lontano E più danno faccio Ok meglio Ricarico un attimo i colpi Qua con Piper Si ma proprio con me ce l'ha Dio santo Ma ce l'ha con me Perché ce l'ha con me Ma con me ce l'aveva Con me ce l'aveva Eh vabbè Se vedi che non gli piacerà A Bruce Stars Non lo so Dove sto Eh Diciamo la nuova postazione Per giocare a Bruce Stars Se ti piace mi fa piacere Urgente rispondi Dimmi dimmi Ah la rotazione E non lo so Per come gioco Io ragazzi Non so a forte Lo so Ehi Angelo 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 Aia che dolore E dai Però Cazzo Devo essere Devo avere la mira Più precisa Sto cazzo De Angelo Oh no E chi è quella Dai Mi ha preso Mi ha tirato quattro botte E mi ha ammazzato Ma chi è No vabbè Ma che si so forte Allora vediamo come si usa Corvo Eh Corvo si usa Che non lo usi No è impossibile Come fai Cioè guarda là Che cazzo Di organizzazione Una a destra Una a sinistra Mamma mia Madre Ok 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 E no Qua c'è una bella botta di culo E la botta di culo ci vuole qua Ma pure di skill cazzo No Dio santo per quanto poco Oh cazzo Dio santissimo per quanto poco Allora E vabbè per quanto poco Vabbè oh nel senso Piper non è male Allora fammi bannare un attimo questo Allora più miri più miri più selendo Se spari continuo senza usare la mira Spari più colpi e fai lo stesso i danni Dici senza usare la mira dovrei fare Quindi dovrei sparare senza usare la mira Dici Allora chi è che rompe il cazzo in chat qua Chi è che caga il cazzo che lo banno subito Boost power Boost power Vediamo un po' questo boost power che dice Allora bravo Allora penso che me Allora ma porti solo E allora penso che mi fermerò un po' con la sub Ok ciao Perfetto Non fare più le sub Allora se gioco Se io porto bro stars E non ti piace quello che porto Puoi pure benissimo andartene a fare in culo Che ti devo dire Che sento già venire a dire queste cose Metti spike ok Oh quello l'ho preso eh Senza mira è meglio Eh ma lo vedi senza mira Ma dove vado senza mira Dio santo Dio Eh non c'è sta Non c'è sta altrimenti Non c'è altrimenti ragazzi Grazie Artemis 1991 Grazie mille Eh ma devo imparare a mira ragazzi Non è che Quella che è piper Pure qua c'è sta piper No è impossibile È impossibile È impossibile È troppo forti Cioè non c'ho la mira Non c'ho Cioè guarda là Settemila danni Cristo Dio Settemila danni Come fai Allora Ciao ma te sono venuto qui Perché mi è giunto a voti Che sei diventato Con più coppa al mondo Su bro stars Ma che stai a di Cambio brawler Ok Ultima partita Poi cambio brawler Ok Vai Artemis Grazie mille Le stai prendendo troppe Eh ma sti cazzi Sti cazzi Anche se perdo Non mi interessa Dai però Manco uno ne pio Ma è incredibile Che nemmeno uno Nemmeno uno Nemmeno per ride Porca Dai Niente Non ce lo so Non ce lo faccio Ed è praticamente Non dico che è impossibile Però quasi Dai C'è C'è stavo Quasi eh Quasi però Quasi Chi Quasi Quasi Non gliela faccio Dai Eutella Dov'è Ma che è sto champion Dov'è Porca bestia Che sfiga Ah si ci stanno pure i gadget di Piper Ok come si builda Piper Allora Piper come si builda Ma io non c'ho niente di Piper Allora come si fa qua Allora quale è venendo tra queste due Allora gadget Mirino automatico Un colpo micidiale Il nemico più vicino Che oltre a ricevere punti danno Anche rallentano e sbalzato indietro Quale prendo Il secondo o il primo Allora o il primo o il secondo Decidete voi Va bene va bene tutto bene Allora In chat dicono il primo Il secondo Il secondo allontana di più Il primo fa più danni Allora il secondo allontana Il primo fa più danni Il primo Scegliete il primo Il secondo Il primo Poi Ci abbiamo Abilità stellare In forma Quando Piper si trova in un gespuglio I colpi del sparasole Raggiungono la distanza massima Che causano Questo è buono In boscata qua Il primo Poi equipaggiamento Equipaggiamento Non lo so All gadget Che prendo La vita La salute Lo scudo Lo scudo O la vita Ah l'altra Questa Eh vabbè niente Via Andiamo Proviamo così Dai Io andiamo Mi sento male Che sfiga Eh vabbè dai tranquillo Non fa niente Via Andiamo a vedere Allora Vita e scudo Vita e scudo Eh vabbè Ma non va bene Così ragazzi Buildata così Piper Non è bella Niente perché Non hai moneta Ma me l'avete detto voi Ragazzi De come buildare le cose Non hai più soldi Matteo Eh lo so So povero Che devo fare Mi sono finito Tutti i soldi Mi sono finito A forza Non posso dirlo Sto su tiktok E qua Bisogna anticipare L'opponent E dai però Non lo piglio Non lo piglio Perché non lo prendo Bisogna essere Precisi Come gli cecchini DJ Vai Vai Perché non va Vai Me sono sbagliato Ok Ok Uno è buonita Dai quello là è morto Dai GG Allora i gadget Quando c'è il nemico più vicino Ah ho capito Quindi quando c'ho il nemico più vicino Quindi quando c'ho il nemico più vicino Posso tipo Andarmene via Pushando Eh no No non ho capito Allora il gadget è un range Se ti è venuto te lo fa vedere Ah ok Mo ci provo Eh però non è verde Vedi è grigio Non so se me lo fa vedere il range Ci provo Ci provo Dai Proviamoci Oggi no Niente pre Ah Ah Ma faccia un ragazzo No Che dolore Che dè Eppi Adesso Ragio Sottoline Di cazzo Sottoline Di porca Puttana Non è Ragazzo Pensavo fosse morto Pensavo fosse morto Dopo te banno eh Quanto vero e dio Te banno Sarete on fire stasera Veramente Hai visto Allora Che schifo di gente Mi ami Ma perché Non te ne vai Affanculo Iota Che schifo di gente O Sì, sì, sì. Non è... Dio. E vabbè, dai, ci sta, può capitare, può capitare, può capitare. Nen. Allora, quella super si usa in casi speciali, ad esempio, per scappare... Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito, dai, però ci può stare, dai, può capitare. Dai, usa Frank, è una bestia, è una bestia per morire, però. È una bestia per morire, io devo cercare di capire come si fanno i danni, per cercare di capire come si fa la mira, capito? È la mira il mio problema. C'è, sì, no, 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 il... cosa funziona, dai. C'è, sì, no, 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 no. Cioè, devo stare attento a non espormi, perché sennò qua è un macello, eh. Niente, non trovo buchi. Non trovo un buco. Niente, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non trovo buchi. Ma non è che Piper non è facile da usare, non so... Eh, non so... Non so usarlo. Non so usarlo, ditele provare con Frank, proviamo Frank, eh. Dai, dai, proviamo Frank, io. Vai, proviamo Frank. E poi perché è difficile da usare. Ah, ho capito, ho capito, se volete posso... Ci sta, allora, ha un sacco di vita, Frank, ma non legge su TikTok, eh. La gente che è stata bannata da Twitch viene su TikTok a scrivere. Perché devo leggerla, scusatemi. Non meritano manco... Manco la mia attenzione, secondo me. Non leggo. Ok. Allora. Ok, Frank come si usa da vicino, giusto? Cazzo, cazzo, cazzo. Ok. Dai, uno contro uno. Vado, vado, vado. Grazie, sono più bello col Fish Eye, grazie, grazie mille, Donette, grazie. Grazie mille, bellissimo, un bacione. Grazie, grazie mille del supporto, grazie. E' un po'? E' un po'... Oh, Gigi! Minchia. Ce l'ho fatta, eh? Brutto, 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 brutto Eh, niente da fare, ragazzi Cioè, o sono più forti loro Cioè, non lo so Eh, purtroppo, ragazzi, io non so bravo Non so bono su Brustarts Faccio cacà Super raro Cento monete Ok Eh, non so bono, ragazzi Non faccio cacà, faccio, capito? E questo qui è il problema E quello è il problema I miei compagni per le alte delle coppe? Dici? Ok, fruitball, yo Andiamo Beh, fruitball, dai Non è male con le partite di carcio Vai Allora, io Andiamo Grazie, Donetta Non faccio male Non faccio danni Non faccio danni Sto a giocare con un champion che Madre Mamma mia Mamma mia Ma che cazzo è sta roba Ma che cazzo è Vi giuro che non ho Mamma ta Mannaggia, guarda Ma raga Non ho mai visto una cosa del genere Ma non ho parole Non so perché Vi giuro che non riesco a capire perché Non ho parole Cambio brawler Vediamo un po' Cambiando brawler Allora Tic con la mutazione è forte Sbroccato, dici? Che fa Tic con la... Oh, io ce l'ho all'undice Tic Rieschetti ce l'ho all'undice Vai, vai Tic con la mutazione Proviamolo, dai Vediamo un po' com'è Tic con la mutazione Vediamo un po' com'è Ma non è un fatto di player forti Player meno forti È un fatto che proprio È difficile, è difficile No, cazzo Che sfiga Niente Allora Vai, namo No, raga Questo è il premio Cioè, non solo Sopper made Sono pure potenti Questi Cioè, ma veramente Devastante 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 Cioè, sto cercando di capì Sto cercando di capì Perché Però Non capisco Allora Allora Mettiamo Però noi andiamo Devo usare Boh Eh, non lo so Non lo so Ragazzi Non Cioè, se riuscissi a capire Dove è che sbaglio Allora Riesco pure a correggermi Ma non so dove sbaglio Quello è fatto Ci sta Droix Anna Paola Ecco Riesco 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 Dai però Non mi è partita nemmeno la ulti Mazza che danni bro Ok uno è morto No niente Nemmeno non riesco Nemmeno a rilanciarla la palla Cioè Mi sono lanciato senza mirare Ma che è quello che è il mio cuore che c'è Non mi è salvato È incredibile Cioè io gioco un champion nuovo diverso dal solito Ma è incredibile che non riesco a capire dove sbaglio Ma dov'è che sbaglio secondo voi ragazzi Che bello Grazie Grazie mille Te lo dico Eh lo so Grazie Grazie Allora Io andiamo Grazie mille Danni incredibili Cioè Ma che ci abbiamo pure un altro tick In squadra contro Eh sì Grazie mille 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 No, no, è impossibile, è impossibile È impossibile Vediamo se riusciamo a fare un gol, però la vedo dura Mamma mia Niente ragazzi, troppo forti, troppo OP Troppo OP, Dio Cristo Eppure io i danni li faccio, eh Hai visto che hai, perra? Che roba che ho fatto? Cazzo, ma io i danni ne faccio, cazzo Ma non è, ma non è che non Il mio brawler preferito? Allora, più danni causati, non lo so, non lo so dov'è che sbaglio ragazzi Se qualcuno mi sa di Dov'è che sbaglio, magari riesco a migliorare, ecco Oh cazzo Dove sta il mouse? Se qualcuno mi sa di, magari mi sa di, dov'è che sbaglio Dio Cristofalo Dio Cristofalo GG Dai, è una partita che abbiamo vinto, dai Forse è una partita che la vinciamo Ah, dove sta? Ui Ma dai, ma quello mi prende per forza? Ma come si fa a schivare a Spike? Cioè, quello non capisco io Ma perché non l'ho mai usato, si vede Per quello non riesco a schivarlo Non avendolo mai giocato, non so come funziona Alla via un po' come si usa la super GG E' un po' si riesce Minchia raga Oh Minchia So fatto il d'avasto, eh Avete visto che roba? Avete visto che roba? Madonna Ti consiglio di mirare sempre Se non capisci la traiettoria Provalo in campo prova Sì, sì, sì Ma io la capisco, però, vabbè Sbagli nel fare Dovresti fare le singole Per i trofei che hai Ma vabbè Ma è uguale, ragazzi Cioè Tu dici Ma io fare le singole Così almeno salgo veloce E poi Poi vado a fare le tre contro tre, no? Dici Per quello Nerca diavola Io Ah, io Let's go, man Bye Victory Victory GG Oh, oh Oh, ragà Centocinque mila danni, cazzo Cioè Ma Ma io penso che Non so Mostro, eh Ragazzo, sto gampione Gampione Mostro, eh Ma che Porca bestia Oh, raga È forte Faccio paura Dieci kill Dieci kill La No, 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 no No, non ho servato. perfetto troppo forte quello troppo forte ta beccate Cristo Dio Santo cazzo c'è po' sta dai po' capita po' capita dai po' capita po' capita dai c'è po' sta c'è po' capita dai c'è po' capita devi comprare il gadget di lui esatto però si incontra il più forte ciò è sbilanciato devi comprare il gadget quale gadget devo comprare lui l'armateo una madonna e l'hyperchange si è sbroccadissima c'è po' Cazzo Ok Yo, tira GG Minchia oh che roba Madonna che parata Dai 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 Madonna oh proprio l'ho recuperata In calcio d'angolo Nooo chi è questo figlio di Troia lì non è Ma chi l'ha visto Non ci credo mai nella vita Sto cazzo del gatto del merda Che te si arrambica Te si arrambica lì lì Cristo Dio Te si arrambica da una parte e dall'altra Devo comprare i gadget quindi I gadget serve Lo potenzio a tutto questo Lo potenzio a tutto che dite Sapete Sapete quali gadget bisogna usare qua Se sapete quali gadget bisogna usare Li compro eh Allora vediamo un po' Petre Oddio non c'ho più le pietre No 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 ce l'ho ce l'ho ce l'ho Un po' di pietre ce l'ho Allora dimmi un po' che gadget devo comprare qua Ditemi un po' Allora Ricarica automatica Ricarica automatica Oppure il ripristino Quali delle due Seri però eh Ciao lamberjack Ciao bello come stai Grazie mille lamberjack Grazie 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 lamberjack Matteo minore di tre Allora Ricarica Ricarica automatica non è male Poi Gadget Assemblatori O autodistruttore Qual è Allora Autodistruttore dice Attiva uno scudo Che lo protegge Da 50% di danno Di ricevuti per un secondo Dopodiché esplode Infligendo punti danno Non è male Oppure abbiamo Assemblatore di mine Tic lancia Sei mine Con l'attacco Successivo All'attivazione di gadget Autodistruttore Let's go Ok Invece Questi qua L'equipaggiamenti Che prendo La vita Immagino Questo no Questo no Questo No Non si usa O lo scudo O la mina Testa dura O la testa riceve E questo non è male La mina Mina Questo Ok Poi Il più uno Ah Mi fa piacere Lamberjack Il più uno Quale prendo qua Non c'ho più cose Vabbè Dai Vediamo un po' Io Andiamo Io E' mo' bello forte Ha ha C'ho tic Bello potenziato È tutto Porca puttana Mo' Io vedo com'è Sono proprio curioso Vedete com'è Dai Vai 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 Io vediamo Io vediamo Io vai Grazie Lamberjack Com'è D'arca puttana Ciao Ok Goal Ok Allora Yamba Ma dove cazzo vuole andare quello Niente No è perso è perso No 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 segna Cazzo Vabbè Dai ci può stare può capitare Allora come è andata però Ma è un po' meglio eh Un po' meglio Un po' meglio Un po' meglio Un po' meglio Che tristezza Eh vabbè dai ci può stare può capitare Che tristezza perché Marcus Perché che tristezza che ha fatto Ma te in questa mappa ticca non è utile Ah no Raga Chi sblocco tra stupam e griffa Stu cazzo Se vuoi proprio Allora Vabbè dai Ci può stare Ci può stare Ci può stare Dai può capitare Può capitare Dai 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 Allora Il gadget lo devi usare da vicino Ah perché se lo uso da vicino è meglio Il gadget Non lo sapevo Grazie Ci provo Ci provo Ci provo Ci provo Metti il ticca e non raffa gemme Ma te la star è sbagliata se usa l'altra Eh ragazzi purtroppo non c'ho Non c'ho soldi per il momento Ok Ma chi è Ma chi è Oh ragazzi io non gioco a più un cazzo Goool GG Gioco a più un cazzo Yo Perfetto Ok E me so sbagliato E me so sbagliato Prima si usa quello Prima si usa Allora il boost Ma non penso che cambia qualcosa Dai Non penso che cambiava qualcosa Comunque Allora Basta che stai lontano Quando spari Così da non morire Ok Sto più lontano E via Non molto perché È un brawler Grazie mille Mangio mm Come stai Grazie Grazie mille Mangio mm Ah eccolo Go go Grazie Mangio mm Grande Ciao Thomas Ciao Thomas Non è più Il gadget Lo devi usare Quando stai lontano Ah sto attaccato Al nemico Ok perfetto Ok ok Dai ci provo Non c'è Oh showe Oh clic Grazie a tutti. Ok, piano piano, piano piano, piano piano, dai. Ho fatto una cazzata io? Cristo, noni, 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 salvala, salvala. Porca bestia Ok Piano piano I don't jump your gadget Ok Non è Mamma mia Per quanto poco Per un pelo Per un pelo Oh Però 81.000 81.000 cose non è male dai Alla fine Dai non è male Comunque sei bravo visto che giochi da così poco Grazie Grazie mille Grazie Ci provo dai Ci provo Ci provo dai Non dico Potrebbe andare meglio eh Potrebbe andare meglio Non lo metto in dubbio Potrebbe andare meglio Però Sempre meglio potrebbe andare Però dai Non è male Credo io Credo Fammi un attimo vedere qua una cosa Arrivo eh Dai Vedo dopo Dai No Ci provo Di Ma Se Pu V A S Ah Antonio Pic Te cazzo cazzo ma che sei forti so ma non ci credo non è cazzo dai ma sto uomo come fa a segnare così sembri Gesù Cristo si si ce l'ho il passo ce l'ho ce l'ho niente qua stanno scrivendo vabbè ah vabbè piangono arrivo subito ragazzi in attimo sanno il fatto loro a voglia allora 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 vediamo un po' come diceva mio nonno meglio tardi che mai e allora perché non me ne andate a fanculo cazzo è qua no non ho capito ti diamo il benvenuto su instagram che è completo il tuo profilo ma che cazzo ma che è sta roba no no ma che è per te seguiti che roba è le storie che hanno cambiato boh non ci capisco un cazzo non ci capisco proprio niente io vai 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 io proviamo quando arrivi a 50 ti danno una skin per ticca bellissima ah si la madonna santa eh mastro vincenzo me lo fai volare grazie perfetto vai no 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 Grazie a tutti. Non ho capito una paralisi. Ciao Sabri Queen! Come stai? 100 bits! Grazie! Un bacione! Un bacione enorme! Grazie! Non mi funziona. Non mi funziona il web qua. Non mi funziona. 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 GG! Allora praticamente... Andiamo a vedere... Andiamo a vedere. Vediamo se riesco a bannarlo questo. Perfetto. Questo è meno uno. Ciao Martusia! Come stai? E... Ciao bella. Andiamo. Andiamo a vedere. Vai, vai, vai. Qua, io! Vediamo. Tiro le palle. Guardiamo. Ehm... 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 GG Vai 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 Una kille l'ho fatta eh Una kille l'ho fatta Bastardo Bastava poco così per Per attivare la cosa Vabbè ma tanto se non è questa sarà la prossima Sicuro Mio dio che sfiga Per Per un pelo de figa Vabbè 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 Mo voglio ride Mo voglio ride Ma tra poco c'ho pure la cosa qua Niente non ho fatto fuori nemmeno uno Da vicino dovevo andare Camigazzi tipo Ulti più quella lì E ammazzavo tutti Non lo so Boh chiedo Grazie rude Grazie mille Ma ne vanno circa una quarantina Dove mi trovo? Eh sto Sto sempre dentro casa mia Sto sempre dentro casa Vabbè dai ci sta Ci sta ho perso Ci sta Ci sta ci sta Ci sta Allora Vabbè Oh può capitare Perde Ci può capitare Perde così Ci può capitare Eh ne ho bannati parecchi ragazzi Stasera Ne ho bannati parecchi Me ne dovrebbe Proprio me ne dovrei Fregare il cazzo Me ne dovrei fregare Dovrei andare avanti Per la strada mia E fregarmene il cazzo Poi se vogliono scrivere Sti maleducati Falli fa Però non lo so È che C'ho proprio un odio Un odio Non so perché ma Me viene proprio un odio da dentro Non so perché Non so perché Alla via un po' GG No non è che me insultano Ma non è che me insultano Mi dicono De portare dei giochi De fare le robe lì Però Ok io Non insultano Non è che insultano Dicono Grazie Grazie mille Hammer Pro Grazie Hammer R6 No Hammer Pro Non so ringojoniti So fan Fan casuali Ragazzi So fan casuali E me mi dispiace Veramente Perché Guarda Non è che Il Dice Grazie a tutti. Grazie a tutti.